delle cariche è impossibile quello dove sono impossibili ma non ci credete perché non è vero per esempio, quanti sono questi? 4 10 li contiamo se li contiamo magari sappiamo quanti sono, giusto? questo è 1 e questo? 2 3 4 5 6 7 8 8 allora noi abbiamo esattamente 8 dischi, giusto? e questo è quel famoso gioco che io ho visto seduto in quella sedia e c'era il Paolo che prendeva questi dischi che come avete potuto vedere erano staccato all'altro e gli attaccava facendo io ruotare no, ma questo si è attaccato la sola ma cosa importa che? si attaccano o si attaccano staccendo le ruotare lo dico sempre io ma questo si è attaccato la... ma no ma no 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 chi è che voi provate? io oppure girarli come fanno gli altri maghi quello di girarli rimane un po' più si sarà attaccato si si attaccato allora per staccarli guarda qua guardate per staccarli basta girarli uno così più si girano e più si staccano guarda eh ma perché non li guardate non li guardate come si fa allora guarda eh si devono girare poi così 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 perché qui oh no oh e di nuovo attaccato eh no si siete riusciti? allora stacchiamo così stacchiamo questo ok Patrizia vi passi i due così almeno stacchiamo? no no passami solo eh santa non c'è un'uscita stacca sta a vedere sta a vedere non c'è un'uscita ma non c'è un'uscita non c'è un'uscita così avevi fatto tanta fatica ma si avvenza così semplicemente allora siete riusciti? no no stai lì dai ma non posso dire allora allora scusate ragazzi io cosa vi ho detto finora vi ho detto siete ancora avete visto qualcosa di possibile finora? no allora scusate e certo no ma li avevi intorsigliati un po' ma fa lo stesso li abbiamo toccati allora grazie non c'è un po' molto calimo così sarei miei a riuscire all'attaccarli tutti dici tu? no chi è che l'ha detto? io tu dici stia attaccarli staccati come facciamo all'attaccarli tutti? eh? hai già attaccato? tre due ma che due tre che cosa? ma certo che cosa? ci riusciamo? dici? sì ma non ci staccati non ci staccati non ci staccati non ci staccati eh? ehi eccolo tutti attaccati avete visto? sì bene 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 riusciamo riesco anche se volete controllare io io ma l'avete già visto? io eh tieni guardalo fallo vedere niente guardate perché non c'è niente di strano allora lo possiamo fare entrare anche dentro alla corda io faccio un nodo ok? ok? e adesso lanciando però dai ehmèmè lanciando diciamo questo dentro all'anello di corda entra addirittura nel nodo il nodo è fatto che l'abbiamo visto uno due tre un'altra cosa apposta eh? ok? un altro nodo due tre tre ho fatto passare in mezzo all'anello grande e da lui si è si è acciacato al nodo prima ho fatto un nodo vero? eh e poi e poi ti arrangiamo la mezza si ma in mezzo all'anello in mezzo all'anello certo l'ho passato se tu fai un nodo con una corda e poi ti butti dentro l'anello l'anello va da una parte all'altra però che c'è un po' quando sei a casa eh? grazie 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 grazie